La Guardia di Finanza di Genova ha intensificato l'attività di contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti non sicuri, in particolare con l'operazione Anatale Puoi, che fa parte di un più ampio dispositivo di contrasto alla commercializzazione di merce messa in vendita, priva dei dati relativi all'importatore, delle informazioni in lingua italiana o priva della marcatura CE in prossimità delle feste natalizie. Controllati durante la settimana diversi grandi magazzini cinesi di Genova, dove le famiglie possono acquistare giocattoli, illuminazioni e decorazioni, nonché oggettistica varia a prezzi stracciati. Gli interventi hanno consentito di sequestrare oltre 60.000 giocattoli, luminarie e decorazioni natalizie, pronti ad entrare nelle case italiane con il rischio di rovinare le feste. Per il supporto delle attività operative dei reparti del corpo e delle altre forze di polizia è utilizzato il sistema informativo anticontrafazione della Guardia di Finanza, SIAC, una piattaforma informatica plurifunzionale che attraverso l'apposito sito internet liberamente accessibile al pubblico offre ai cittadini informazioni e consigli utili sul mondo della contraffazione e consente ai titolari dei marchi di concorrere al contrasto di traffici illeciti sul territorio, condividendo dati ed elementi utili per riconoscere i prodotti veri da quelli falsi.